Ciao bambini! Super mega fantastici! Apriamo gli album! Una figurina! Dei me contro te! Costa 2,99 euro in edicola con due bustine e sticker album 10 figurine più 10 figurine Ok, apriamo le bustine! Trovate una golden card e vince una giornata con lui e soffiii! Si sa se Cristian è fortunato di trovare la golden card? No, io non so mai! E' l'album de me contro te! C'erano due fatti così di figurine! Quante figurine c'è in ogni bustina? 5 più 5 fa 10 e 5! Mi fai vedere le figurine! 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 9 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 10 9 9 9 10 9 10 Allora, apriamo un lampo. Dentro andiamo un poster. Noi andiamo la L. Strappiamolo. L. L. Fammi vedere il poster. Apri lo tutto. Facciamo vedere. No, ce n'è anche uno dietro. Noi facciamo quello avanti. Fammi lo vedere bene. No, in contrario. Ok. L. C'è anche dietro. Fammi vedere dietro. Te contro me. Me contro te. Ok, attacchiamolo. Attacchiamo il primo numero. L. L. Ecco qua. L. Vuoi vedere? Uno, due, cinque. Cento e venticinque. Di qua? Di più avanti. Questo è il cento e venticinque. Andiamo attaccato il primo da Cartoon. Cartoon. Lei chi è? Sofìa. Sofìa. L'hai trovato? Il nemico. Il nemico. Andiamo attaccato. Questa è il nemico. Attacchiamola. E con il bilantini. Il nemico. Un'altra. Un'altra del bilantini. Numero 13. 13. 13. Non so cosa c'è. Cerchiamo la pagina numero 13. Noi da P. e chi è il numero 13? è dolce, sensibile, isolare amo e l'unicorno da piccolo ero bravissimo con lo scatello pagina 108 108 foto pazze foto pazze 108 108 158 ehi vai no, che dirà cercalo cercalo le nostre canzoni il momento prima del bacio 158 129 e qui? ma che cosa sei facendo? 129 no, 129 guarda indietro, indietro scusa 120 dai, ancora indietro ma questa ha paura ma cos'è questo? 134 giro una pagina per volta avanti 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 eravamo qua prima nooo 129 volete un verme? ci sta? ci sta ci sta avvicinando 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 129 126 cosa sta facendo? un bagnetto finito il cartone sta scritto finito non ho trovato la carta fortunata spero di trovarla una prossima volta ti è piaciuto il video me contro te iscrivetevi il mio canale pollice su con mamma ciao me contro me no me contro te ciao ciao ragazzi al prossimo video ciao ciao però ho trovato una di lettere ho trovato una di lettere eeeh questo è un post si può toccare anche il muro si ma non attacchiamo quanto c'è ci saranno per oggi Cristiano è stato fortunato a trovare la carta dorata qui